L'Agenzia Funebre Armando Apicella opera 24 ore su 24. Contattaci al numero in sovrimpressione. Le condizioni fondamentali per convivere con il Covid, che ha ripreso ad avanzare in maniera imponente in questi giorni d'autunno, sono la prudenza e il rigore nell'osservare le misure introdotte per scongiurare la diffusione del contagio. Un ruolo cruciale in quest'ottica è quello affidato alle forze dell'ordine, a cui il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha più volte fatto appello, affinché vigilino sul territorio, sanzionando i trasgressori. E così anche nella città metelliana, nel corso di mirati servizi, in pieno centro storico, i carabinieri della tenenza di Cava dei Tirreni agli ordini del tenente Vincenzo Pessolano, nella giornata di giovedì 8 ottobre, hanno elevato 5 verbali nei confronti di altrettanti cavesi trovati a passeggiare senza indossare la mascherina. Gli uomini dell'arma hanno inoltre sanzionato i titolari di due esercizi pubblici per l'assembramento nel locale e in ottemperanza all'ordinanza numero 77 del 5 ottobre della regione Campania, e al decreto legge entrato in vigore appunto nella giornata di ieri. L'attività di controllo proseguirà e vedrà in campo inoltre la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, con servizi anche notturni.